Il cantante Marco Carta è stato arrestato con l'accusa di furto aggravato dopo essere stato fermato venerdì sera insieme ad una complice all'uscita dalla Rinascente di Milano con sei magliette del valore di circa 1200 euro. I due avevano tolto l'antitaccheggio ma non la targhetta flessibile che all'uscita del negozio ha suonato. Per i arrestati è stata prevista la custodia cautelare domiciliare ed è previsto in giornata, secondo quanto riferisce la polizia locale, il processo per direttissima.